legata al coronavirus sul territorio terramano e sul territorio abruzzese. Questo è un po' il messaggio che è stato ribadito anche questa mattina nel tavolo che si è tenuto in prefettura. Sì, lo dico soprattutto come presidente Anci e come rappresentante dei sindaci, in questo momento di tensione istituzionale all'interno di tutto il paese, qui non abbiamo al momento emergenza sanitaria, non abbiamo casi, la situazione è sotto controllo, tutte le verifiche che sono state effettuate hanno dato riscontro negativo, quindi questa è la situazione al momento. Come presidente Anci, anche oggi all'interno dell'Unione in prefettura, ma lo abbiamo già fatto e lo faremo anche questa sera con i comitati ristretti dei sindaci congiunti, stiamo cercando di lanciare un messaggio tale che non ci siano decisioni assunte in autonomia, ma come il decreto legge approvato dal governo vuole e come tutti gli atti che sono stati adottati in attuazione del decreto legge, che ci sia una centralizzazione delle decisioni, perché soltanto a livello centrale e governativo si può dare una risposta complessiva, organica, a quella che è un'emergenza che non può essere limitata e circoscritta da un territorio, soprattutto come il nostro, che al momento è fuori dalla logica dell'emergenza. Questo vale soprattutto, e anche per il discorso delle scuole, restano aperte e ogni eventuale decisione futura sarà centralizzata. Sì, come abbiamo detto ieri, la decisione sull'apertura delle scuole o della chiusura non dipende, ed è giusto che sia così, dai singoli sindaci, dai singoli territori, ma è una valutazione che deve essere assunta a livello più alto, quindi regionale, e o meglio governativo, soprattutto per le aree non interessate attualmente da casi di contagio conclamato. La valutazione che il Governo ha fatto, proprio nel tavolo di oggi, è proprio quello di non procedere ad una chiusura nelle situazioni in cui non c'è un caso. C'è questo percorso normativo che è stato adottato, distinguendo tra le ipotesi di zona rossa, quindi l'area interessate, dove c'è una normativa dettagliata, puntuale, e quella dove non c'è ancora un contagio conclamato, e speriamo assolutamente che non ci sia, e su questo stiamo lavorando, e il sistema di prevenzione e precauzione serve proprio a questo. Ciò non significa che non debbono essere disciplinate anche le situazioni nel nostro territorio questa mattina. Questa sera dovrebbe essere manata o pubblicata una ordinanza, che comunque riguarderà anche le aree non interessate da contagi conclamati. E si valuta anche l'apertura eventualmente dei COC, dei centri operativi umani? Questa è un'indicazione che, proprio per favorire il raccordo tra comuni, comunità, protezione civile e ASLE, è arrivata dalla protezione civile nazionale e dall'ANCI nazionale. Il COC, soprattutto nei comuni più grandi, potrebbe essere uno strumento, come centro operativo di coordinamento, per svolgere questo ruolo di raccordo istituzionale, ovviamente nel dialogo stretto, già sentito su eccellenza il prefetto, con le prefetture che devono svolgere, come hanno sempre fatto meritoriamente, il ruolo di raccordo tra le istituzioni e il territorio.